eccoci mamma che ansia oggi Luca Tremolada Luca Zorloni Riccardo Saporiti due Luca per cui comanderà Riccardo Saporiti allora al centro giornalista di Wired lo conoscete su Twitter scrive di tantissime cose di argomenti di come ti occupi? di prettamente economia diciamo tecnologia in senso largo dai mettiamola così privacy esatto privacy sicurezza nel senso però mi sembra che i dati siano un punto di riferimento assolutamente e poi l'attualità quello che invece ad essere c'è l'unico che c'ha le cuffie è Riccardo Saporiti lo conoscete che ha scritto questa cosa qua ok una app per capire come saranno ripartiti i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza oggi parleremo di questo ieri è stato pubblicato il documento online per cui a disposizione di tutti e l'operazione che ha fatto Riccardo Meritoria dal mio punto di vista è stata quella di aprire i dati del PNR sì nel senso che chiaramente come molte delle cose che vengono prodotte dalla pubblica amministrazione italiana il piano nazionale di ripartenza e resilienza ormai una fila strocca era prodotto in formato pdf quindi un formato chiuso e cosa abbiamo fatto per abbiamo realizzato un grafico che ecco questo è un grafico che ha fatto il collega di Infodata Filippo Mastroianni comunque per fare una mappina che raccontasse un po' il piano abbiamo dovuto aprire i dati quindi me li sono come dire copiati a manina perché ho bisogno di capirli bene capire come organizzare il file e dopodiché una volta che li avevamo aperti ho chiesto a a Luca Zorloni che era il collega cioè il giornalista che mi aveva commissionato il pezzo gli ho detto Luca ma possiamo rilasciarli questi dati rendere disponibili a tutti quanti che è una cosa che insomma siamo abbastanza abituati a fare a Wired Luca mi ha detto vai e adesso i dati sono su Github e insomma chiunque può prenderli farci quello che vuole e adesso ve li faccio vedere che sono questi quindi voi avete creato questa pagina allora faccio io una domanda poi mi taccio perché comanda Riccardo in conto a Luca che continuo a dire comanda Riccardo poi parlo sempre io perché sono logoroico per cui adesso veramente ma era questo che intendevi quando prima mi hai detto dobbiamo parlare di politici giusto questo che intendevi sì esatto no infatti no allora quello che noi vediamo che cos'è e siccome Luca voi ne fate parecchi di questi di questo tipo di operazioni proviamo a raccontare insomma qual è la chiave giornalistica allora innanzitutto prima partiamo da Riccardo Riccardo che cosa hai fatto e che cosa serve questo oggetto qui allora che cosa ho fatto è stato prendere i dati del piano nazionale sostanzialmente che sono organizzati per missioni argomenti e ho costruito un database che ricostruisce questa cosa con i valori e sono quei due file che vedi pnrr csv e xls sono due formati di fogli di calcolo l'ho resi disponibile in entrambi i formati c'è una licenza che dice sostanzialmente che chiunque li può utilizzare per farci quello che vuole e abbiamo appunto readme che spiega che cosa c'è dentro lì quindi dice che appunto abbiamo preso questi dati che permettono di capire come saranno investiti i 191 miliardi e mezzo di euro che sono destinati all'Italia dal Next Generation EU e niente c'è appunto questa licenza che consente a chiunque di utilizzare questi dati non è la prima volta che facciamo Luca voi l'avete fatto spesso questo tipo di operazione come wired non solo come wired tra l'altro allora che senso ha mettere aprire i dati e mostrarli ma il senso è quello di cercare di vincere il moloch diciamo pubblico che come diceva all'inizio Riccardo fa sì che ogni informazione sia sempre diciamo irraggiungibile o difficilmente condivisibile in questo modo ci sono c'è una base dati che di fatto diciamo è la trascrizione di quanto è contenuto nel piano è disponibile per tutti permette ai giornalisti di analizzarli di capire se ci trovano dentro degli elementi che ritengono diciamo meritori di essere notiziabili consente di vedere molto più semplicemente i dati perché 191,5 miliardi di euro è un numero importantissimo ma molto difficile da visualizzare anche diciamo nella segmentazione delle attribuzioni delle varie voci quindi in questo modo attraverso quello che ha fatto Riccardo che avete fatto voi e poi so che Riccardo porterà anche altri esempi questo consente a chi è interessato di capire come verranno ripartiti questi fondi di guardarli in maniera un pochino più semplice di dire ah guarda effettivamente la transizione ecologica ha un peso ma il peso di questa transizione verde è come è ripartito tra le varie voci non è poco perché ripeto parliamo veramente di un numero quasi cabalistico di fondi e quindi smontare questo aspetto diciamo mitologico del PNRR è importante anche per trasmettere a chi ci legge il valore e le direttrici di queste di queste cosiddette missioni e poi appunto c'è l'aspetto anche di diciamo di contributo al dibattito pubblico quindi è offerto sia a giornalisti e altri colleghi che ci possono ripeto fare analisi di qualsiasi natura e ripeto magari trovarci dentro delle notizie ma anche ad altre associazioni alla società civile che può lavorare attraverso questi dati per contribuire alla riflessione su questo PNRR perché noi per adesso abbiamo solamente un librone di 200 passapagine di buone intenzioni poi di queste si può lastricare o l'inferno o il paradiso a seconda di come li utilizziamo questi fondi e dunque se i dati sono aperti se la gente può vedere esattamente qual è la ramificazione come facevi prima vedere per esempio nel vostro di graffio che mostra come questi fiumi diventino man mano dei ruscelli dei rivoli che diffondono le varie risorse e questo può aiutare diciamo le varie istanze che sono presenti nel paese a dire attenzione su questo magari progetto non avete investito a sufficienza qui state dando troppo poco se compariamo i due magari due missioni attenzione che ce n'è una che ha troppo poco poca pochi stanziamenti per sé e se aggiungo la cosa che servirebbe ora sarebbe un altro passo cioè sarebbe quello di mettere insieme il PNRR a tutti quegli altri piani e a tutti quegli altri fondi che il governo sia dall'Europa che attraverso diciamo investimenti propri ha su missioni simili contiguo a quelle del PNRR e vedere come funziona tutto insieme il menu degli stanziamenti che l'Italia ha questo serve in partenza per dire come le stiamo utilizzando cioè stiamo facendo un piano fatto veramente bene o meno e a valle per dire come le abbiamo spesi cioè rispetto al preventivo di partenza qual è il consultivo di questi dati e mi taccio no allora io scusami vai no dicevo il fatto di averli aperti probabilmente l'auspicio che possa rendere più semplice anche il monitoraggio che poi come dire è la cosa importante ormai decisioni su come spendere sono stati presi ma voi ti credete cioè nel senso che adesso faccio un po' il provocatore vecchio è rancoroso però un conto è aver detto noi in questo momento abbiamo come hai raccontato perfettamente tu la mappa di dove andranno questi soldi Draghi ha più volte detto di essere un tuffoso dei dati no la trasparenza fatto sta che ci sono tantissime attese sul fatto che la comunicazione di questo governo sarà qualitativamente diversa rispetto al passato e che verrà fornita ai cittadini degli strumenti dei monitor delle dashboard per monitorare questi processi io temo metto le mani avanti perché sono vecchio lo dico subito temo una complessità straordinaria perché io ieri che è stato pubblicato tutto il documento ho passato la notte a leggermelo tutto è straordinariamente strategico per il nostro paese si vanno a dettagliare i migliari che andranno per il cloud per la digitizzazione per gli ospedali per monitorare un processo del genere ci vuole qualcuno che a un certo punto inserisca il dato chi inserisce il dato la pubblica amministrazione alla fine a valle di questo processo o chi ha la commessa del lavoro cioè credo che manchino e forse dovremmo chiederle ma tra l'altro noi come infodata voi come guarda come sistema una sorta di mappina come dice Riccardo in cui ci dite adesso come operate sul fronte della comunicazione di dove vanno a finire quei soldi perché altrimenti qual è il rischio che resta tutta una materia del giornalista politico raspiego il giornalista parlamentare che sta a Roma che ha i suoi contatti con il ministro sottosegretario e quindi a un certo punto gli dice guarda che lì abbiamo chiuso il dossier o guarda che lì cioè diventa un altro tipo di comunicazione top down come dicono gli americani no? cioè dal ministero fuori che va step by step perché attenzione se lo metto nei panni del dell'addetto stampa è più conveniente perché ma il ministro mi dice guarda la possiamo dire sta cosa qua sì diciamola la chi la diciamo a Repubblica il sole il Corriere diciamo la Repubblica la diciamo a Repubblica e poi molto dopo magari mettiamo il dato sul grafico o mettiamo facciamo un documento un comune di carta stampa che dà conto di quel numero la mia domanda è perché non mettiamo le mani avanti e non cominciamo a dire prima di costruire qualcosa non dico di automatico perché di automatico non c'è nulla in Italia che però dia al cittadino contezza di dove si sta andando molto veloce dove non si sta andando veloce in maniera passatemi il termine matematica matematica o in cui vi ha spiegato un meccanismo per cui verranno monitorati cioè io non ho ancora capito nulla sulla trasparenza del monitoraggio di questi soldi ma penso che non ci non hai capito niente perché non c'è ancora neanche chiaro molto bene da parte di chi cioè il fatto che manchi questa cosiddetta governance del PNRR secondo me porta poi diciamo come correlato il fatto che non sia molto chiara come la trasparenza diciamo dell'uso di questi fondi sarà utilizzato io sono molto d'accordo con te per due motivi il primo è che ho notato che soprattutto nelle ultime settimane il governo ha leggermente spostato la comunicazione cioè siccome il PNRR è stato un po' così impallinato da tutta una serie diciamo di portatori di interessi perché su certe voci di spese investe troppo poco o investe in forme che non piacciono a determinati gruppi di rappresentanza in Italia legittimo o non legittimo che sia non sto giudicando qui le istanze alcune le ritengo tra l'altro molto legittime allora il governo è iniziato a dire sì ma non ci sono solamente questi 191 miliardi ci sono tutti gli altri che mettiamo on top che fanno poi 248 la somma finale e poi ci sono comunque i fondi del settennato europeo e poi ci sono altri altre risorse e quindi diciamo il piatto è veramente molto ricco e quindi uno secondo me bisogna mettere in collegamento tutti questi tutti qual è veramente il plafond che noi avremmo a disposizione perché altrimenti è un po' poco chiaro cosa andiamo a fare cioè se per esempio nel piano nel PNRR noi investiamo molto sull'alta velocità dicendo sì c'è anche sul treno regionale ma non nella misura in cui viene ritrutto da molti sufficienti insomma per adeguare le linee locali in tante regioni ma quello lo possiamo andare a compensare con altri fondi bene diteci quali sono dove sono e dove li andiamo a pescare e iniziamo a mettere il preventivo di tutte le voci di spesa bene in chiaro altrimenti diciamo poi è un po' facile fare il gioco delle tre tavolette insomma far diciamo girare gli stessi mille euro da un bilancio all'altro come se ci fossero sempre poi magari non ci sono mai il secondo è sicuramente un è importantissimo avere già da ora una dashboard diciamo un pannello di controllo un cruscotto che alloca progetto per progetto le voci di spesa magari facendoci vedere anche da quali di questi basi di finanziamento pesca quindi quanto arriva dal PNRR quanto dal settennato quanto da altro insomma perché magari diverse parti di un progetto saranno finanziate con diverse diciamo fondi che noi abbiamo a disposizione questo sarebbe molto importante ci sarebbe bisogno di avere un bottone di emergenza quando ci stiamo addormentando su un progetto o per i conosciuti malani della pubblica amministrazione italiana nelle gare andiamo troppo lunghi e quindi rischiamo di non utilizzarli sarebbe necessario che da qualche parte spuntasse cosa abbiamo già ottenuto e non abbiamo speso e come possiamo eventualmente metterla a frutto quindi diciamo secondo me ripeto questo è solamente il libro dei desideri tra l'altro per certe cose dico anche neanche dei desideri diciamo di un bambino molto fantasioso dei desideri molto pedestri in certi casi serve ora l'execution serve quantomeno un piano fatto molto bene di esecuzione con tutti i fondi che abbiamo veramente a disposizione e questo secondo me è necessario altrimenti noi rischiamo che quando queste risorse arrivano poi nei rigagnoli locali ne perdiamo totalmente traccia non ce lo possiamo permettere a prescindere proprio come come paese non solo perché è l'occasione legata alla ripresa del covid ma in generale perché uno non ti può dare un prestito e tu poi lo fai sparire così o non lo usi o non sai cosa farsene insomma è ora che dobbiamo chiedere conto come giornalisti come società civile della spesa di questi soldi e quindi sono d'accordo con te questo discorso deve uscire solamente dalla parte più politica di indirizzo di decisione quindi anche per quanto riguarda diciamo i settori dell'informazione ed entrare più in quello diciamo di analisi del dato perché senza questo nostro diciamo costante senza questa nostra costante attività di controllo difficilmente potremo poi poter diciamo eventualmente battere cassa o segnalare che ci sono dei problemi nell'applicazione sì diciamo che bisogna che poi anche le redazioni prendano confidenza col fatto che ci sono i dati che si possono utilizzare come si possono utilizzare così magari come dire diventa anche più più normale chiederlo anche magari sui titoli di apertura e non solo sulle dirette tweets però se posso sempre criticone però mamma mia la buta lì cioè proprio un interista sei proprio quando sei puoi tac la devi toccare vabbè hai visto mai che non era in piazza d'uomo domenica nonostante condividesse la gioia bravo quindi continua sotto lì no è tutto un capito andare di scalpello tac io però sono interista però sono giornalista ma faccio le mappine io non sbaglio i titoli bellissimi beh no io i titoli non li scrivo quindi è facile così no però c'è un'esperienza interessante che potrebbe come dire fare da diciamo da scuola per monitoraggio della della spesa dei fondi del piano nazionale di ripartenza e resilienza che è l'esperienza di open coesione che tiene monitorati le spese dei fondi per la coesione che ci trasmette l'Europa c'è un sito si chiama opencoesione.gov e lì si possono vedere oggetto per progetto lo stato di avanzamento lo stato di spesa della somma della somma destinata quello potrebbe essere un modello appunto non è che ci manchino le capacità cioè lo abbiamo visto anche durante la pandemia quando si è trattato di aprire i dati dei contagi da parte della protezione civile ci è voluto magari qualche giorno c'è un github da cui si possono scaricare i dati lo stesso vale per per i vaccini anche per i download di Muni che è un tema che Luca Zorloni ha seguito molto da vicino su su Wired quindi le competenze ci sono è un tema di volontà politica il presidente Draghi insomma si è speso per il tema dei dati la verità l'aveva fatto anche il presidente Conte Bis prima di lui poi insomma stiamo ancora aspettando adesso però ce lo aspettiamo da Draghi ovviamente che diciamo che secondo me il tema è proprio la volontà di poter essere controllati cioè la politica deve essere deve accettare che questo diciamo tipo di strumento che chiaramente toglie smonta la retorica perché nel momento in cui il numero mostra che tu quel soldo non l'hai speso o che l'hai messo diciamo nella voce sbagliata c'è poco da stare a discutere ad argomentare ecco la politica deve accettare questa questa forma di controllo da parte della società civile della stampa che si voglia impegnare sull'argomento chiaramente è molto più per certe cose forte ed efficace diciamo di altri tipi di critiche e di analisi e questo mi sembra un tema di diciamo di scelta e di natura e di volontà proprio della classe politica stessa è stato fatto in certi casi sui temi legati al covid perché si è compreso diciamo la straordinarietà di certe condizioni su altri temi non è stato fatto mi auguro che anche se su questo invece sono un po' scettico la cultura politica cambi tipo è stato fatto fino a un certo punto nel senso che vi ho firmato tutti la petizione dati bene comune no ho una domanda a tutte e due siamo sicuri che non stiamo sbagliando l'interlocutore cioè io sono completamente d'accordo che non possiamo permetterci con la crisi che andremo ad affrontare di perdere di vista questi finanziamenti è un piano Marshall è un piano Marshall che arriva in un momento su cui non vediamo ancora bene fuori la luce per cui io do per scontato questo è un must è il nostro compito la nostra prima missione come giornalisti ma forse l'interlocutore è l'Europa cioè questi fondi poi non sono soldi sono soldi europei nostri ed europei probabilmente dovrebbero essere le istituzioni europee a monitorare in modo preciso come vengono spesi questi soldi e il documento diciamo l'accordo il recovery fund esattamente dice questo vi ricordate tutta la discussione con l'Olanda con i paesi piccoli chi controlla poi c'è anche chiaramente noi italiani siamo vissuti come un popolo che non vede l'ora di mettere i soldi per darli o alla mafia o alla criminalità utilizzata oppure a usarli un po' la cazzo e questo è un po' il preconcetto che c'è non fate facce perché no no è una fattispecie giuridica precisa esatto facciamo finta che non ci perché poi ti guardano l'Olandese e dici vedi che gridano pure loro invece dobbiamo essere serissimi cioè dobbiamo essere proprio come come il presidente del futuro noi siamo draghi no ma è perché nel diritto olandese questa fattispecie non è prevista è un problema culturale esatto per cui forse dovremmo lanciare un appello a loro un appello o quantomeno cercare di capire forse loro dovrebbero cominciare a pretendere dai governi e quindi di controllare bene noi poi andiamo a vedere l'ultimo rivolo l'ultimo miglio insomma il quadro generale boh non lo so era un po' un mettere in bocca ad altre cose che non mi competono che mi piace tantissimo per cui parlo troppo no invece la cosa che volevo capire con voi visto che altri esempi perché visto il tema della puntata è altre storie edificanti altre cose che Riccardo potremmo far vedere di apertura dei dati cosa faccio vedere allora ci sono intanto un po' di casi di 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 riuso di di questi dati che se vuoi possiamo possiamo mostrare così insomma vediamo dove dove andiamo a faccio la sorpresa va bene ok dovete solo aspettare un secondo ma io in questo secondo ti dico che secondo me sono sull'Europa hai ragione e beh sai ci potrebbe essere un droppio controllo cioè da un lato tu hai il cuscotto europeo che ti dà diciamo una idea di come vengono spesi dal loro punto di vista e dall'altro hai il nostro metterli insieme non sarebbe male le due cose sarebbe un'ottima cosa secondo me c'è un terzo interlocutore che è quello della pubblica amministrazione nelle sue ramificazioni più locali insomma dall'Asli turno al comune che dovranno utilizzare questi fondi lì secondo me si gioca la vera partita sia di fargli capire che cosa hanno in mano sia di farglielo rendi contare bene e lì ci vuole un aiuto da parte di chi farà questa famosa governance il TNRR non si può demandare troppo a realtà che sono diversissime tra loro bisognerà uniformare magari mettere a disposizione delle risorse invento diciamo dei missi dominici diciamo digitali che si occupano di andare sia a controllare che la spesa sia stata fatta nei termini e nelle condizioni previste sia che poi queste informazioni le rendano disponibili ma poi sarebbe importante anche perché andrebbe a costituire un precedente decisamente significativo specie in un paese come il nostro che ha qualche problemino con la corruzione allora Ciro Spataro Ciro Spataro io non lo conosco non so chi sia davvero non prendere le distanze così ma in per dire che non è che è il giro degli amici è il discorso dell'interista che torna no? Cioè capito? Ciro Spataro io non lo conosco io non voglio e in ogni caso come era come era quella cosa che comandavo io scusa? come era quella cosa che comandavo io? no era per dire che non è che ho fatto una cosa con i miei amichetti semplicemente quando è poi uscito il pezzo ho condiviso sul gruppo facebook Data Ninja che è un gruppo di gente che lavora con i dati non necessariamente giornalisti anzi in minima parte giornalisti dicendo ragazzi io ho aperto questi dati ragazzi ragazze se vi interessa divertitevi e Ciro Spataro ha fatto questo chiamiamolo navigatore testuale cioè si inserisce un tema intanto c'è una work cloud che mostra un po' di cosa si parla nel piano se si va a digitare nella stringa di ricerca scrivi scuola ti fa vedere tutti i finanziamenti che hanno a che fare facciamo vedere facciamo vedere idrogeno che è un tema che torna su diverse voci di spesa ok dove è la work cloud invece è sopra all'inizio scusate faccio venire il mal di testa ah questa è la work cloud esatto si ok tra l'altro quindi c'è una connection no grazie al repository di Riccardo quindi c'è un link no e si ha usato i dati che abbiamo aperto noi cioè lui li ha visti sul gruppo di data ninja ha fatto questa cosa ok e poi vedo un'altra cosa che voglio farvi vedere da cui si accede sempre qui sul pnr adesso datemi sempre il tempo di condividere che è un di piersoft no si questo invece lo conosco Francesco Policelli in arte piersoft che lui lavora con gli open data e fa visualizzazione sull'uso degli open data nella pubblica amministrazione da anni se non decenni e lui ha fatto delle mappe sul covid che sono state molto viste soprattutto nella prima fase del lockdown e lui ha fatto questa mappina che ti permette di navigare e di andare a vedere tutte le le dimensioni del poi puoi anche selezionare per missione così se ti interessa la transizione ecologica appunto rivoluzione verde l'ha chiamata lui e vai a vedere com'è articolata la spesa qui come dire vedi anche le differenze di 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 impatto dei singoli provvedimenti dal punto di vista economico ecco però siamo sempre no Luca cioè siamo sempre nella rappresentazione no ma se vuoi anche un po' di di forma no c'è diamo una forma a delle cose che altrimenti sono complicate e noiose perché insomma c'è il documento che non l'abbiamo fatto vedere ma adesso poi ve lo faccio anche vedere è chiaramente un documento governativo no per cui insomma è anche complicato da da sfogliare come data literacy no cioè ci sono ci sono tanti grafici lo facciamo anche vedere però insomma così diventa più accessibile queste operazioni qui lo chiedo a Luca ti spaventano perché poi non possono innanzitutto possono sbagliare no e hanno una una grossa differenza rispetto al bello di internet sai che si diceva Luca che il bello di internet è che se scrive una cazzata poi almeno uno ti dice è scritto una cazzata per cui c'è una sorta di anticorpo legato come Wikipedia no cioè tutti guardiamo questo mondo qua quindi alla fine della fiera qualcuno ti dirà se sbagli eh queste sono operazioni che non tutti sanno fare no perché al di là della bellezza insomma bisogna saper usare dei software c'è una soglia di accesso mentre per scrivere sappiamo quasi tutti scrivere chi più o chi meno eh questa cosa qui insomma la fanno fare solo quelli che sanno sbanettare un po' con i dati se sbagliano rischiano poi di diventare per cui i giornalisti sono anche cialtroni no cioè guardi il loro coso lo prendi per buona e vai diretto no chi è che controlla insomma i controllori per farla un po' così ma io penso che ci sia abbastanza spazio nel nel villaggio globale io se dobbiamo tornare a termini di una volta perché anche questi diciamo controllori siano loro abbiano a loro volto diciamo delle controparti abbastanza diciamo preparate per dirgli hai fatto una cazzata non hai fatto una cazzata cioè nel senso che non da quel punto esatto perché sono convinto che da questo punto di vista ci siano quelli in grado di eventualmente andare oltre diciamo il mettere in forma che già comunque è un'impresa meritoria perché fare informazione vuol dire mettere in forma qualcosa che prima forma non ha e già è un punto di partenza il problema se vuoi in questo caso è la nostra diciamo la nostra classe insomma il nostro il corpo dei giornalisti italiani in particolare insomma che su questi temi deve entrare a gamba tesa parlandone e parlandone diffusamente è in grado di saper leggere quelle informazioni è in grado diciamo anche se non di utilizzare diciamo direttamente il software in sé ma quantomeno di capire l'operazione dietro di saper quindi magari individuare se c'è stato un errore o meno e farne buon uso e questa è una bella domanda secondo me no nella gran parte questo purtroppo condiziona molto diciamo quindi anche il grado di informazione che facciamo in generale in Italia intendo e purtroppo per esempio le occasioni che avremmo anche di formarci come i famosi corsi diciamo legati al nostro ordine non sono momenti in cui si ragiona seriamente su questi temi che sono sempre considerati di nicchia collaterali che tanto poi la notizia si trova in un altro modo la notizia si trova qualunque stasera nel momento in cui tu sei in grado di analizzare un fatto quindi se l'analisi la fai attraverso il mettere in fila dei numeri e riconoscere per esempio che c'è una tendenza che ti offre una lettura diversa delle cose una lettura più chiara delle cose se la fai per esempio diciamo aiutando a monitorare un fenomeno che altrimenti non è monitorabile penso a una cosa che abbiamo fatto con i dati su wired è stato censire comuni 5g non esiste un censimento diciamo da nessuna parte ci siamo fatti l'ho fatto specificamente io ogni volta andando a cercare queste ordinanze sui siti poi ci ho fatto un piccolo excel quell'excel è diventato una mappina io sono un padawan dei dati in confronto al maestro saporiti ma la diciamo andare a fare il lavoro che avrei fatto normalmente cioè andare in un comune e chiedere un'ordinanza si è trasformato in un mettere in forma quell'elemento renderlo più leggibile secondo me fruibile per tutti e trovare una notizia che era per esempio che erano delle tendenze in questi dati allora secondo me dobbiamo un po' uscire dalla diciamo dalla purtroppo dal luogo comune che il grafico è a correlazione della notizia il grafico non è a correlazione della notizia il grafico è uno dei tanti modi con cui uno può mettere in forma un fatto e spesso e volentieri il processo che porta al grafico è il processo che ti consente di individuare una notizia e quindi dobbiamo imparare ad utilizzare questi strumenti perché sono utili a fare il nostro lavoro cioè a beccare delle notizie non poi a fare il grafico più bello più brutto questo poi è una questione di estetica alcuno possono piacere l'effetto a nuvolo a bolla prima di piersoft qualcun altro preferisce la mappina con i continenti uno la vuole in versione in negativo una colorata ma questi sono assolutamente dettagli orpelli il senso è che se tu sai leggere i dati in una società che potiamo dire che di dati ne produce sempre di più e quindi attraverso quei dati tu puoi avere una maggiore capacità di verificare la fondatezza della notizia cioè questo fenomeno di cui noi stiamo parlando non il pnr nello specifico faccio un esempio assolutamente a caso è un'eccezione è una cosa che è successa solamente in un posto che riguarda una persona o ne riguarda tante altre quindi ha un valore di notiziabilità ecco i dati possono aiutarci a fare quello sempre di più secondo me la vicinanza tra giornalismo da una parte e ricerca dall'altra questo gap si sta chiudendo i dati sono proprio diciamo il collante che tiene insieme questi due mondi sempre di più la ricerca dovrà essere in grado di parlare al giornalismo più che parlare superando il giornalismo per arrivare alle persone sempre di più il giornalismo dovrà essere in grado di utilizzare strumenti diciamo di ricerca di analisi dei dati per fare il proprio lavoro e questo per dare notizie che siano il più fondate possibili cioè altrimenti noi ci appelliamo apriamo la finestra vediamo che passa un corvo diciamo c'è un'invasione dei corvi no vediamo cosa ci dice non so il monitor dei corvi che monitorano le migrazioni su tutto il mondo si stanno spostando veramente o meno e per certe cose è più semplice del previsto per altre richiede una costruzione tua autonoma artigianale e rimette in discussione le tue competenze di giornalista ma ripeto quello che avrebbe fatto un giornalista qualsiasi in un mondo in cui prima diciamo questi software non c'erano se c'erano non erano di semplice utilizzo e non erano neanche di semplice diciamo veicolazione oggi li possiamo facilitati e questo ci mette di trovare delle notizie secondo me e quello l'errore oggi che vedo ancora non solo in Italia ma anche in altri paesi che noi consideriamo il data journalism semplicemente una visualizzazione di un'informazione il data journalism è una maniera un metodo estremamente giornalistico per trovare notizie tra l'altro e spesso e volentieri ben più fondate di altre se posso inserirmi su questo discorso sul giornalismo i giornalisti tranne quelli che avevano solo 24 ore che insomma il giornale dei numeri sono un po' allergici sono un po' spaventati dai numeri però io non sono un programmatore ho un utilissima laurea in filosofia della scienza quindi come dire sono di formazione umanista e ho questa competenza però cosa? sono antipatico sono brutto sono brutto antipatico se li ho tutte io era per dire che come dire ho imparato a fare questa cosa però se a me dovessi chiedere di leggere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere cosa che per un collega che fa la giudiziaria è pane quotidiano io vado in panico se mi chiedi di spiegarti come Conte mette in campo l'Inter ti posso fare un discorso da bar ma non so come dire non conosco la tattica come un giornalista che si occupa di sport quindi è un modo di fare giornalismo non è per esempio posso farvi vedere una cosa adesso lo sfogliavo quello che mentre voi parlavate stavo sfogliando il pdf del il pdf che è il documento insomma che è stato reso pubblico dal governo queste qua sono i fondi digitalizzazione innovazione e sicurezza nell'APA poi io chiaramente ho un passato finanziario quando vedo i numeri ho come un come il riflesso dell'uomo ragno cioè mi blozzo 9,7 miliardi totale poi vai a vedere le singole voci e becchi dati interoperabilità interoperabilità 0,65 ora per insomma non bisogna essere tecnologi per dire che la notizia è dentro quella voce dati interoperabilità per cui adesso noi come diceva giustamente Luca siamo veramente sulla superficie di questo processo che è un processo interessantissimo perché ragazzi i dati interoperabilità vuol dire tutto quello di cui stiamo parlando oggi no cioè un'amministrazione che diventa interoperabile è un'amministrazione dove io per tradurre posso avere il mio dato sulle mie analisi del sangue e girarle con tutti i crismi di privacy a chi di dovere in maniera interoperabile farli elaborare magari e darli per la scienza a Google e utilizzarli per scopi più alti ecco questa è l'interoperabilità senza arrivare a Google però c'è anche il tema Google a tutte le Big Tech però c'è anche il tema legato i dati a Google dò i dati a Google tu sei divertissimo di fare quello che vuoi con i tuoi dati ci mancherebbe altro no dicevo c'è anche un tema di perché molti hanno detto ecco c'è poco spazio ad esempio su Twitter Giorgia Lodi che è stata anche nostra ospite c'è poco c'è poca attenzione ai dati però secondo me uno in questo calderone diciamo rientra ad esempio i fondi sulla digitalizzazione della della sanità cioè tu pensa cosa avrebbe significato banalmente per fare l'elenco delle persone da vaccinare pensiamo in Lombardia il problema che è emerso con i soggetti fragili che è nato perché c'erano persone disabili riconosciute per la legge 104 che non rientravano negli elenchi perché c'erano elenchi diversi elenchi non aggiornati non digitalizzati e quindi è stato complesso mettere insieme l'elenco delle persone aventi diritto tuttora ci sono persone che non riescono non rientrano devono chiamare il medico di base che fa l'assimilazione alla TS così si chiamano le aziende sanitarie in Lombardia che fa inserire da poste il nominativo nell'elenco e quindi nel giorno di un paio di giorni si può prenotare il vaccino va bene funziona è un po' farraginoso tu pensa cosa avrebbe significato schiacciare un tasto e dire esporta impostando i riparametri possono vaccinarsi le persone che hanno questi requisiti che entrano in queste categorie schiacci un tasto e l'elenco è fatto e magari ti genera in automatico un calendario di appuntamento e manda una mail in automatico a tutti dicendo deve venire il tal giorno alla tal ora nel tal posto questo è la digitalizzazione della sanità io dico solo aggiungo solamente una cosa a questo discorso prima dicevo mi sembra che non sia il piano di un bambino fantasioso perché appunto diciamo dentro il PNRR ci sono cose che in questo paese sentono dire io le sento dire da quando sono nato e ho coscienza indicativamente di cose dette in televisione da un politico quindi e questo è drammatico che noi siamo ancora cioè noi non stiamo facendo il PNRR con una missione per andare su Marte una per creare un secondo sole e una per costruire una statua di Leonardo da Vinci alta 300 km voglio dire che la possano vedere da tutto l'universo ma stiamo facendo un PNRR per fare delle cose diciamo abbastanza tese e purtroppo molto in ritardo e il dramma diciamo di questo ritardo è che poi tu e soprattutto in questo piano che ripeto per certe cose è solamente una lista di buona intenzione che tu non capisci effettivamente quei fondi poi concretamente come verranno ripartiti perché sono tanti o pochi questi 100 milioni dipende diciamo cosa devono pagare questi 100 milioni possono essere tantissimi o possono essere molto pochi il mio diciamo timore è che volendo far partire tutti questi cantieri diciamo insieme l'ottimo diciamo si dimostri nemico del bene cioè per esempio io mi stupisco che in un anno in cui noi e passi in cui ci troviamo in una condizione di pandemia per esempio un uso intelligente del fascicolo sanitario elettronico ancora non l'abbiamo fatto cioè banalmente andare a catalogare per esempio per patologie diciamo quali erano i soggetti che in una scala da 1 a 10 avevano precedenza nel fare il vaccino automatizzando poi quella decisione quindi dicendo a parità di età località di residenza disponibilità di appuntamento il giorno 6 maggio viene Riccardo anziché Luca e beh mi sembra veramente la dimostrazione che stiamo inseguendo diciamo un miraggio un miraggio anziché fare le cose più pratiche e questo avremmo avuto tranquillamente a livello regionale tutto il tempo di farlo da quando la pandemia è scoppiata quando ci siamo resi conto che avremmo dovuto fare una campagna di vaccinazione massiva a quando la campagna di vaccinazione massiva l'abbiamo fatta partire quindi cosa sono quei 600 milioni bella domanda cioè quali best practice abbiamo in mente da portare da portare diciamo a casa abbiamo avuto bisogno del cashback per divulgare delle app di identità digitale mi sembra abbastanza sconfortante sia dal punto di vista diciamo della cittadinanza ma sia anche diciamo della merci di scambio politica che abbiamo utilizzato per fare questo tipo diciamo di digitalizzazione quindi a me purtroppo ripeto per adesso non ho su certe cose nulla da dire sul piano sono d'accordo ripeto potrei contestare il fatto che c'è poco sulla ricerca di base ecco ci sono alcune voci che mi trovano che mi trovano d'accordo però in generale ripeto non è un piano da cui che penso possa trovare in disaccordo tanti se poi lo mettiamo insieme al resto dei fondi di disposizione è ancora di più il problema è la prova pratica lì ci dovremmo essere ancora di più e lì ripeto mi piacerebbe vedere poi le ricette concrete che vengono che vengono proposte perché quando parliamo soprattutto di digitalizzazione ogni tanto teniamo fuori veramente dei luoghi comuni e dei progetti faraonici che poi rischiano di partorire solamente tanti topolini questo invece che stiamo vedendo scusa Luca è un lavoro che ha fatto Walter Manni anche lui non so chi sia che era interessato ai temi legati al turismo e ha isolato gli aspetti turistici del PNRR e li ha visualizzati ovviamente sì siamo alla fase di come dire si parlava prima di Marte diciamo che la stiamo ancora osservando con i telescopi da lontano ci vorrà tempo perché si riesca ad ammartare e a far volare droni però intanto ci stiamo lavorando poi chiaramente il tema sarà il monitoraggio e sarà sempre bisogna sempre tenere conto appunto che vi faccio vedere il lavoro che ha citato prima Luca che lo vede come protagonista a che punto siamo rimasti con i comuni no 5G no e che mi ha girato adesso Riccardo solo che io avevo la scusa noi facciamo anche un po' di io avevo Whatsapp spento per cui l'ho fatto vedere adesso no figurati questi sono alcuni appunto dei bilanci che abbiamo fatto abbiamo fatto uno l'anno scorso ci siamo occupati di individuare qual era la tendenza dei comuni perché abbiamo osservato che nei mesi del lockdown erano aumentati notevolmente queste ordinanze quindi anziché dire che alcuni comuni lo facevano quello che noi abbiamo potuto dire è stato dimostrare ordinanza alla mano che quel boom c'era e c'era tra l'altro in particolare zone poi siccome questo anche questo nostro lavoro spero non ne posso avere la certezza matematica ma confido che a qualcosa lo serviamo ancora come giornalisti ha sollecitato la politica a prendere provvedimenti a fare quel famoso di vieto di emettere queste ordinanze poi allora la fase successiva è stata quella di andare a dire vediamo quanto ora ci costerà questa partita di far rimuovere queste ordinanze quindi ora diciamo il monitoraggio prosegue sulle cause in tribunale che stanno aumentando per fortuna tanti comuni hanno avuto la decenza di ritirare i provvedimenti prima e quindi di chiuderla velocemente al TAR ma noi stiamo intasando del TAR di stupidissime diciamo cause per semplicemente per farci dire che l'ordinanza appunto è stata ritirata e quindi tutto va a TAR a Lucevino e poi c'è stata questa curiosa correlazione di Giuda da Riccardo però molto interessante perché come sappiamo le teorie del complotto vanno a braccetto fanno famiglia figli e nipoti e stanno sempre insieme e guarda caso diciamo abbiamo notato un po' di correlazione tra le regioni dove queste ordinanze no 5G non più diffuse e l'esitazione nel farsi vaccinare esatto hanno incrociato questi dati tra l'altro i dati sui vaccini raccolti attraverso i fogli anche quelli aperti e utilizzati da qualche ricercatore che mi ha scritto e ha detto possiamo usare prego prego e stanno facendo dei lavori loro però tu non conosci non conosco non conosco non conosco ti ha contattato ma tu non conosci alcuni li ho conosciuti dopo perché erano ricercatori di centri di ricerca qua vicino però dopo 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 ma bene facciamo facciamo Riccardo che invitiamo ancora Luca quando si avrà magari se invitiamo se ci vieni a trovare in realtà è una richiesta di quando avremo qualche dettaglio di più sul PNR se ci ritroviamo qui e magari prendiamo un po' il discorso per capire un po' se siamo contenti ecco così magari molto volentieri Luca un po' come i bambini che si scambiano le figurine poi vi faccio vedere i bambini che abbiamo fatto noi vi fate vedere le mappine che avete fatto voi e mettere insieme le cose cielo cielo manca manca esattamente mi piace mi piace molto anche lo scambio di figurine approvato Riccardo lancia un appuntamento che ne so lo faccio a poco improvvisa ci vediamo a cena domani sera presto allora torneremo ancora a parlare di dati e di altre cose tra l'altro ricordiamo che fatemi fare una chiusura sullo spot settimana prossima una nuova puntata di Data Jobs e una nuova puntata di play talk think talk lo sai Luca che è diventato un gamer Riccardo sì ma guarda ormai questo ragazzo fa di tutto di più poi ti chiedi perché ogni tanto le mappine arrivi in ritardo però cosa vuoi salutiamo tutti certo grazie per l'ospitalità è stato un piacere grazie grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te